La realtà che ci circonda è indubbiamente molto più complessa di quanto possiamo immaginare. Storie strane e misteriose, il link lo trovate in descrizione, discute di misteriose e sporadiche esperienze che mi sono capitate, quanto di storie enigmatiche e misteriose. Il link lo trovate in descrizione di questo file. Ciao e esperto.